E' esposto qui in Basilica il bozzetto del carro triunfale per la celebrazione della prossima festa dell'Immacolata l'8 dicembre. E' rispettata la tradizione, a mezzogiorno è stato esposto il bozzetto, diciamo innanzitutto il titolo, nome dolcissimo, bellissimo questo titolo, invocare il nome dolcissimo della Madonna. Avremo tempo poi di approfondire l'aspetto teologico del nome di Maria che è legato al nome di Gesù, per il quale nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, come dice Paolo nell'inno cristologico. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre e così anche invocare il nome di Maria, nome dolcissimo, possiamo dare gloria a Dio Padre. L'autore del bozzetto di quest'anno è Alfonso Raiola che l'anno scorso ci ha regalato i dipinti del carro del caro professor Raffaele De Maio che quest'anno è stato per Alfonso anche il consulente artistico. Si può vedere, è una barca su cui è Maria, c'è anche il bozzetto è originale perché quest'anno è quasi fatto in 3D. Questa è la barca che naviga sul mare perché noi guardiamo la stella e invochiamo il nome dolcissimo di Maria. Ci sono tutti i simboli della nostra terra, davanti il corallo si trasforma in una corona del rosario di corallo. dietro ci sono le rocce del Vesuvio su cui spicca la M di Maria ma soprattutto tra le rocce fiorisce la Ginestra. E poi la Madonna in trono su un trono di nuvole e di angeli e di cherubini. È un bozzetto molto vivace che ci riserverà sicuramente anche delle novità e delle originalità. Sabato scorso, 16 settembre, abbiamo iniziato anche la preparazione spirituale al cammino verso l'8 dicembre. Abbiamo acceso la prima lampada del primo sabato, un sabato dopo l'altro, arriveremo all'ultimo, i 12 sabati, in preparazione alla festa dell'Immacolata. Sia sempre il nome dolcissimo di Maria sulle nostre labbra e nei nostri cuori. Buon cammino a tutti verso l'8 dicembre. Buon cammino a tutti. Buon cammino a tutti.